Dal 1 luglio al 31 agosto, salvo proroghe, scatta in tutta la Toscana il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Negli stessi due mesi è vietata anche qualsiasi accensione dei fuochi ad esclusione della cottura di cibi, imbraceri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi comunque vanno osservate le prescrizioni del regolamento forestale. Il mancato rispetto delle norme di prevenzione comporta l'applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. La Regione Toscana, in collaborazione con il consorzio LAM-CNR-IBE, ha predisposto un sistema di previsione del rischio incendi boschivi sul territorio toscano per determinare giornalmente il livello di rischio di sviluppo e propagazione ed emettere il relativo bollettino pubblicato sulla home page della Regione Toscana. Alle quattro classi di rischio sono associati altrettanti colori che per ogni singolo comune della Toscana consentono di visualizzare immediatamente il livello di pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi. Oltre al monitoraggio del rischio, il bollettino ospita una sezione che evidenza i comportamenti corretti che ciascuno di noi deve tenere, sia per evitare l'innesco di un incendio forestale che nel caso di avvistamento di un principio di incendio. In questo caso l'invito è segnalarlo tempestivamente al numero verde 800 425 425 della Sala Operativa Regionale Antincendi Boschivi o al numero di emergenza Unico Europeo 112.